La Top Voli Latina archivia la pratica Ravenna nella quindicesima giornata della Superlega Unipol Cyper 3-7-1. Tre punti che tolgono Latina dal fondo della classifica e la riportano in undicesima posizione scavalcando Padova, Milano e Sora. Una gara giocata a strappi dove sono stati i padroni di casa a rimanere in partita anche sotto di molti punti. Una buona iniezione di fiducia per la Top Voli Latina in attesa del trittico Civitanova, Trento e Modena. Parte bene Ravenna con i muri di Vangarderen e Bossi che si portano sul 2-7. Con Torres in battuta si allunga pa per il 9-14 per gli ospiti. Bagnoli tenta la carta Pencev che risponde al servizio portando il 7 in parità sul 16. I muri di Torres e Ricci riportano gli ospiti sul 18-21 ma prima Fei e poi un muro di Egitto siglano il sorpasso dei Pontini per il 24-23 e la chiusura del set per il 28-26. Si sblocca il secondo set con i muri di Ricci e Torres sul 5-9 per gli ospiti. Maruotti accorcia le distanze sul 12-13 ma Torres allunga prima il 13-16 e poi il 17-22. Un ace di Fei riporta sotto i Pontini per il 21-23 ma è Ravenna a chiudere il set per il 21-25. Nel terzo set parte bene Latina con Gitto per il 5-2. Torres pareggia i conti sull'otto e il centrale Pontino firma il 12-9 e poi a servizio i padroni di casa. Allungano fino al 20-13. Sul 24-19 va il servizio Torres che mette a segno tre ace che portano i Ravennati sul 24-23 ma un muro di Sottile chiude per il 25-23. L'inizio del quarto set è tutto per Ravenna fino al 13-15. Poi pareggia i conti per il 16-16 e sul servizio di Sottile arriva il sorpasso dei Pontini per il 20-17. Un muro di Van Garderen riporta sotto Ravenna per il 20-19. Un ace di Torres riapre la gara sul 23-23 ma i vantaggi chiude Latina per 27-25.